Eccoci tornati in un nuovo video perché oggi costruiremo un nuovo studio. Vi piace avere uno studio dove poter mettere il vostro computer? Ebbene noi utilizzando semplicemente delle tavole di legno che comprate a Leroa e questi negozi del fai da te possiamo costruire proprio tutto quello che vogliamo. Quindi vi faccio vedere anche come era fatto prima perché comunque era sempre stato creato da me. Io sono amante anche del fai da te quindi non mi piace andare a comprare, mi piace costruirle e fare progetti come li voglio io, se no non va bene. Quindi io vi lascio la clip così vedrete che cosa ho fatto. Ciao! 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 ne pensate di questo lavoro fai da te fatto una bella scrivania fatta tutta in legno solito massiccio ho aggiunto dei led con una striscia che magari vi lascio anche il link in descrizione che sono delle strisce bluetooth dove loro possono cambiare il colore attraverso anche il vostro smartphone difatti dopo essersi collegato noi possiamo cambiare colore tranquillamente utilizzare anche delle scene anche magari della musica possiamo cervellarci così con della della musica psicadelica possiamo cambiare colori varie scene varie cose ma io sono molto contento di questa scrivania semplicemente con dei piedi è una tavola tutta levigata semplicemente dato una mano di impregnante volendo voi potrete dare anche una mano di smalto per poterla rendere un po più lucida però è davvero molto comoda molto spaziosa e la consiglio a tutti quindi se volete costruirla potete seguire tra virgolette il mio tutorial e fatemi sapere cosa ne pensate di questa scrivania sotto nei commenti potete scrivere un vostro parere magari se volete darmi dei consigli io li accetterò e io vi rispondo sempre perché chiaramente io non sono uno professionista del fai da te non so bene come fare le cose ma le faccio quindi va bene anche così è molto bello quando uno cerca di ingegnarsi perché poi magari nelle prossime volte verranno delle cose ancora più belle perché avete fatto esperienza quindi buttatevi non dovete avere paura di fare le cose perché la soddisfazione è grandissima quindi iscrivetevi al mio canale telegram dove li metto tutti i link di vari acquisti di amazon con dei coupon che voi potrete risparmiare dei soldi e seguitemi anche su instagram perché io li inserisco delle foto e anche dei video dei mini clip fatti ieri sono andato in montagna e ho fatto delle bellissimi paesaggi con il drone e quindi se non siete su instagram e ve li perdete quindi andate a cliccarci e io per il resto vi lascio al prossimo video rimanete sintonizzati perché non sappiamo mai quale tecnologia nuova può uscire ciao